In Grecia sono sempre più numerose le persone che per potersi nutrire debbono ricorrere alle menze delle associazioni caritative. Le statistiche sono impietose, un terzo dei greci vive in condizioni di povertà, 4 milioni di persone a cui si aggiungono i migranti senza lavoro e senza assistenza. Per le strade della capitale non è più inconsueto vedere immagini del genere. Padre Isidoro, uno dei preti dell'associazione che distribuisce pasti caldi, spiega che la società è come una ragnatela e quando si rompe da una parte crea rischi e pericoli per tutti. La situazione negli ultimi due anni, da quando Atene è sotto la cura dell'Unione Europea, del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, è nettamente peggiorata. Come accade anche in altri paesi europei, a ricorrere alle donazioni non sono più solo i senza tetto o i disoccupati cronici, ma anche chi fino a ieri non stava male. Sono persone comuni, gente che ha perso il lavoro e ha visto la propria vita colare a picco. La maggior parte dei greci in difficoltà riesce a tirare avanti solo grazie alle attività delle associazioni. Migliaia di persone festeggeranno il Natale con un pasto straordinario che verrà distribuito a partire dai prossimi giorni. Grazie a tutti.